Nessuna prova e così il giocatore dell'Inter e della Nazionale Francesco Acerbi viene assolto dall'accusa di razzismo nei confronti del terzino del Napoli, Juan Jesus. Il giudice sportivo ha ritenuto di non procedere per mancanza di prove. Se offese ci sono state, scrive ancora la procura federale, sono state percepite solo dal calciatore. Nessun atto o gesto plateale, nessun coinvolgimento di tifosi e altri giocatori. Non esistono riscontri probatori esterni né audio né video e nemmeno testimonianze di terzi, se non quella dell'arbitro che ha raccolto le parole di Juan Jesus durante la partita tra Inter e Napoli del 17 marzo scorso. Dunque l'insufficienza di prove scagiona definitivamente Acerbi che rischiava uno stop di oltre dieci giornate, una sentenza che continuerà a far discutere e che non metterà certamente la parola fine a episodi antisociali e di razzismo nel mondo del calcio. Scoppia a piangere Vinicius Junior, calciatore del Real Madrid e della nazionale brasiliana prima dell'incontro amichevole con la Spagna. La povertà, l'infanzia difficile e poi il calcio che gli ha salvato letteralmente la vita. Io sono fortunato, ce l'ho fatta, dice piangendo, ma sono qui per dare voce a tutti i neri del mondo, quelli ancora discriminati e relegati ai margini della società. Vinicius, 23 anni, non ha potuto studiare ma allenarsi sì e soprattutto giocare a calcio. La scuola la sta scoprendo solo ora dopo aver lottato per sé e la sua famiglia per uscire dall'indigenza e dall'anonimato.